Musica 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 Benico 23 anni Sono Cristina, 20 Qual è io? 17 anni Valentina, 13 Mara, 15 Credo in ciò che dice il Partito Democratico e credo che sono tutte cose realizzabili in quanto non si prende in giro la gente Un inizio che vogliamo Un inizio che sembra essere partito in piedi giusti e speriamo che continui in questo modo Una persona cerca anche a vent'anni ma anche a 15 anni, a 18 anni Ne vedo tanti, i ragazzi cercano delle speranze forse in questo partito L'unico partito che permette un'apertura ai giovani di entrare tranquillamente e di dire la propria opinione Crediamo in questo soggetto politico nuovo Soprattutto perché veramente tra i ragazzi c'è una perdita di valori politici Noi abbiamo sempre richiesto con credenza Perché quello che un 17 anni viene non è grandi discorsi filosofici Alzarsi alle 5 del mattino per andare sull'Umbria Alla fine, ma no, ma sai, fa piacere perché mi fa sentire anche un po' parte di un insieme No, perché altro è comunque il desiderio di essere partecipi Di cercare comunque di non restare passivi Quando accadono comunque delle cose molto importanti Perché comunque oggi è una giornata molto importante Alla fine siamo noi quelli che dobbiamo cominciare a muoverci Non possono essere sempre gli altri È una cosa che ci riguarda per primi Ma una giornata sicuramente interessante perché rappresenta un inizio che vogliamo Un grande messaggio diverso da tutte le altre aperture di campagna elettorale Mi è piaciuto molto il fatto che non abbia parlato dell'avversario politico Ma di quello che si vuole costruire Un politico diverso, un politico che ha un background importante Beltroni perché rappresenta un modo di fare politica in una maniera nuova Un po' innovativa Ha in testa questo nuovo Si può fare secondo me